buongiorno sono monica de paoli notai milano cofondatrice di milano notai faccio parte del consiglio direttivo di asso benefit e sono qui per parlarvi dello statuto delle società benefit che è molto importante per due ragioni la prima è che la qualifica benefit è autodichiarata dall'imprenditore e quindi lo statuto diventa il biglietto da visita con cui si presenta agli investitori e al mercato la seconda è che la legge a maglie volutamente molto larghe e quindi lo statuto perimetra i rapporti tra soci e stakeholders e tra soci e amministratori definendone i poteri e di conseguenza le responsabilità in particolare vorrei concentrarmi sull'importanza del beneficio comune che si innesta sull'oggetto sociale tipicamente profit dell'impresa e lo arricchisce con l'indicazione del perseguimento di effetti positivi o la riduzione di effetti negativi nei confronti di determinati portatori di interesse e categorie di beneficiari attenzione perché alcuni imprenditori sono venuti da me chiedendomi di scrivere io il beneficio comune non può essere così il beneficio comune è il cuore intorno al quale ruota il progetto benefit dell'impresa non può essere troppo generico ma può essere anche sufficientemente ampio da modulare nel tempo il perseguimento del beneficio comune così come possono essere demandati a delibere del consiglio di amministrazione o regolamenti interni le modalità per l'attuazione delle finalità benefit quindi attenzione allo statuto attenzione al beneficio comune grazie